Una famiglia di pazzi, primo premio all'ultimo salsofilme e TV Festival, è un film Isogo Ishiu, il più giovane regista giapponese. Una famiglia di pazzi, primo premio all'ultimo salsofilme e TV Festival, è un film Isogo Ishiu, il più giovane regista giapponese. Un cineasta è cresciuto alla scuola del mio cinema di rifare. Il protagonista Katsuya, un arresto impiegato, un padre e un fattoso, un giorno scavando un luogo nei sotterranei della sua nuova casa, scopre un milio di fermite che sta intaccando le famiglie. Per vincere gli insetti, usate tutte le tizze, l'insetticina, acqua, martelli e una macchina. È l'inizio di una guerra, il fluido invade la famiglia. Per vincere gli insetti, usate le famiglie. Per vincere gli insetti, le famiglie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.